E ciao a tutti ragazzi sono TheGent e ben ritrovati qui sul mio canale siamo tornati qui signori finalmente dopo tantissimo tempo sul nostro canale perché da un bel po' che non vi ho caricato dei video ragazzi erano feste anche per me non avevo un minuto per registrare mi dispiace però io nonostante tutto vi ringrazio perché veramente ragazzi il canale sta viaggiando a dei numeri spaventosi cioè stiamo quasi guadagnando 100 iscritti ogni due giorni quindi boh io sono veramente soddisfatto di questa cosa siamo tornati con rotto di video one signori e ho ascoltato i vostri consigli e mi avete detto di provare Mertens io ho comprato Mertens ma viate anche consigliato tempo fa di provare Insigne noi cercheremo di provarli entrambi i signori oggi e vediamo un po' come si comportano Mertens io già l'ho provato parecchie volte ed è veramente una bestia comunque abbiamo il nostro Pereira qui in panchina andiamo subito a trovarci il nostro primo avversario signori la situazione è questa qui con 8 punti con 6 partite rimaste quindi non stiamo né troppo male né troppo bene però dobbiamo evitare di pareggiare ulteriormente le partite quindi signori andiamo subito a trovarci il nostro primo avversario sono carico spero abbiate passato un capodanno che vi siete proprio riempiti come gli animali e spero che abbiate tutte e 10 le dita dopo che avete sparato i botti io non sono d'accordo però ognuno la pensa come vuole e quindi andiamo subito a trovare il nostro primo avversario eccolo qui signori il nostro primo avversario di oggi una serie anche lui c'ha Luis Adriano Gervinio, Biabiani, Lulic, Insigne, Sturaro, Zuniga, Barzagli, Bonucci, Perez e Marchetti c'ha un po' la formazione nostra vecchia e un po' la formazione nostra nuova comunque a Luis Adriano ragazzi che se segna veramente io mi incazzo perché con me non fa niente Luis Adriano e con gli altri sì sì noi siamo contro Bandali Morena non lo so speriamo signori di fare una bella partita e di riportarsi subito alla vittoria io non gioco da parecchio a FIFA ma non può essere una scusa ragazzi non ci si scorda come si gioca a FIFA e vamos signori eccolo subito quadrato quadratino 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 che entra in aria quadrato quadrato in aria quadrato perché non ha tirato? avete visto la barra che si è caricata ma non ha tirato ragazzi c'è un calcio d'angolo con Marchiscio che la mette dentro verso con i balistop di quadrato oh mio dio che brutta cosa attenzione al calcio di punizione Insigne questa è brutta ragazzi è brutta oddio da dove è passata? da in mezzo alla parriera fase confusa fase confusa Marchiscio Nainggolan si gira Nainggolan prova il tiro Marchetti c'è Nainggolan Nainggolan in aria Nainggolan Marchetti niente raga attenzione Gervinho lo insegue Bruno Perez che veloce no che culo ragazzi che culo attenzione bravissimo Salah bravissimo Salah mamma mia e poi ne usciamo alla grande ne usciamo alla grande signori ne usciamo alla grande con questi scambi Salah già è morto Salah già è morto attenzione a Salah Salah inseguito Salah prova la palla dentro l'inserimento attenzione Higuain Marchetti raga ma che palla attenzione facciamo questo uno schema tutto complicato quadrato all'infuori per Mertez stop e tiro Marchetti ancora Mertez oh madonna gran palla Higuain allarga tutto per Salah Salah si ferma ancora Salah Salah entra in aria Salah salah dentro Higuain la mettiamo dentro signori 1 a 0 grande azione che fa impazzire un po' il difensore uno contro uno e poi il gol più facile che il Pipita non può sbagliare 1 a 0 signori meritatissimo meritatissimo adesso andiamo subito a fare il secondo però si gioca però si gioca palla dentro Marchissimo la parata di Marchetti ancora dentro raga ma me l'ha ucciso attenzione errore no oddio che gol signori non so cosa abbia fatto il nostro avversario ha sbagliato il rinvio Marchetti e Nainggolan ne approfitta 1 a 0 sto male sto male raga bellissimo però attenzione adesso Manolas Mertez dentro Higuain 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 messo giù e la madonna attenzione a Nainggolan mamma mia signori che siluro ocio 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 lo sapevo io lo sapevo i miei giocatori stanno un po' ubriachi al primo tiro quasi in porta questo ci fa gol e adesso rischiamo anche di pareggiarla benissimo allarghiamo vai Mertez vai Mertez vai Mertez vai Mertez vai Mertez dentro Higuain solo Higuain no Marchetti dai che ha sbagliato dai che ha sbagliato dai che siamo al novantesimo ha sbagliato Mertez Mertez è solo Mertez Mertez allarga tutto Nainggolan Nainggolan Marchetti raga è assurdo è assurdo è assurdo adesso teniamola alla bandierina teniamo alla bandierina teniamo alla bandierina teniamo alla bandierina chi se ne frega anzi no la diamo dentro Mertez che schema signori la chiudiamo finalmente 3 a 1 3 punti primi 3 punti della giornata uh sudata ma non per colpa mia perché il gioco ha voluto farmela sudare perché l'ho dominata signori dall'inizio alla fine e finisce qui signori 3 a 1 prima vittoria di oggi primi 3 punti di oggi andiamoci subito a vedere i dati perché sono veramente curioso e beh ragazzi c'è un rischiato di pareggiarla con questi dati quindi signori 3 punti siamo a 11 punti 3 punti per mantenere la divisione ok proviamo in signa adesso al posto di Mertez e vediamo come ci troviamo con Mertez si mi sono trovato abbastanza bene però non mi è piaciuto tantissimo quindi signori andiamo subito a trovarci il nostro ultimo avversario di oggi sperando di fare un plane e di vincere anche questa partita eccolo sino il nostro ultimo avversario di oggi che si vince davanti a un'altra serie A con Iguain Tevez Mertens, Pianic, Tengolan, Marchisio, Sandro, Manolas, Chiellini, Abate e Andanovic una bella 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 serie A con un Tevez messo lì a caso forse se metteva C or C per ERA avrebbe fatto un po' più intesa ma comunque a 100 di intesa 84 di valutazione noi abbiamo 82 signori questa non so perché sento il fiuto e sento che è difficile come partita vamos attenzione a Bruno Perez che stoppa male però riesce a recuperarla attenzione a Salah poi Nangolan si gira ancora Nangolan è al limite non so che fare la palla per Marchisio ancora quadrato allarghiamo tutto Alexandro bella questa azione bella questa azione Insigne si gira dentro Iguain stop tiro oddio che tiro quadrato, 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 quadrato entra in aria, quadrato, 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 ma perché ci mette sempre tre ore per tirare il quadrato? avevo fatto una cosa meravigliosa quadrato ce n'è Nangolan al limite Nangolan al limite Insigne, Insigne si gira Insigne allarghiamo tutto ancora Marchisio grandi discambi Bruno Perez non so che fare dentro Insigne ancora dentro Marchisio oddio calcio di punizione la nostra mattonella signori tiriamo con Insigne 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 oddio che ha preso Nangolan oddio che ha preso raga bellissima punizione di Insigne dai ragazzi dai ragazzi finisce il primo tempo signori 0 a 0 partita molto 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 equilibrata anche se noi abbiamo fatto più tiri di lui però è veramente una partita molto equilibrata stiamo difendendo bene entrambi vai quadrato 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 è passato quadrato è passato quadrato è passato che c... ma che culo raga che c'ha pure questo però dai che ha sbagliato Iguain Iguain gol Gonzalo 1 a 0 signori meritatissimo che cavolo abbiamo recuperato benissimo palla con Salah poi Insigne che sta giocando davvero davvero bene mi sto trovando meglio con Insigne con Insigne che con Merda vi dico la verità attenzione non è finita mamma mia Perin ragazzi è svegliato mo' va Insigne va Insigne dentro Salah oddio no oddio no che cos'era che cos'era Salah dai ho detto no per una volta faccio il gol della merda invece no è venuta una merda veramente corri quadrato dai corri quadrato dai corri quadrato dai 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 quadrato dai quadrato dentro Nengolan stop no dai dammi il rigore stronzo no 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 Iguain Perin oh mamma ragazzi sono solo colpa mia se sta tenendo se sta cercando di recuperare sta partita perché ce l'avevo in pugno attenzione no no al novantesimo raga no no al novantesimo no no lo sapevo gioco di merda lo sapevo io ma guarda come me lo sentivo raga come me lo sentivo eh ti pare una fischia come lo sapevo raga ma che rabbia una partita che dovevo meritare dall'inizio alla fine è impossibile vincere adesso la divisione 1 perché dobbiamo praticamente vincerle tutte e quattro ho tre episodi ho fatto una vittoria e un pareggio è assurdo raga è assurdo signori io spero che il video vi sia piaciuto lo stesso abbiamo fatto una vittoria e una un pareggio ma guarda come rosico la difesa ha tenuto benissimo per tutta la partita al novantesimo si apre il buco all'indifesa perché deve far segnare quello ho detto io ho sbagliato di mio però i miei giocatori non riuscivano più a fare un passaggio decente spero che il video vi sia piaciuto lo stesso abbiamo 12 punti ne rimangono 4 di partite vincendole tutte e quattro andremo a 24 punti e vinciamo il titolo ma è praticamente impossibile speriamo di più che altro di mantenere la divisione io spero che il video vi sia piaciuto faccio se questo mi piace commentate condividete mi raccomando facendo una pagina facebook un profilo instagram tutto sotto in descrizione vi ricordo vi ricordo vi dico che comunque ho creato una bundesliga e un'ibrida tra serie A e bundesliga fatemi sapere quale volete vedere nel prossimo episodio del roto di visual 1 il video è finito al gente è tutto ciao aio ciao a tutti